Matteo Montaguti all'arrivo di tappa su Bagno di Romagna, ancora stanco, sfinito, si vede tutta la fatica e tutto il sudore che si è provato in questi quasi 180 km e oltre. Come stai? Mi sono un po' amareggiato perché la fuga era quella buona e mi ha mancato davvero poco per scollinare davanti. Ho avuto una defiance proprio gli ultimi 3 km e non ce l'ho fatta restare con i migliori. Peccato perché in volata forse quello che ha vinto sarebbe stato più veloce di me, però non si sa mai. Peccato, io c'ero, ci ho provato e vediamo, è già qualcosa. Tu ci sei ancora perché sei comunque sorridente anche dopo non aver ottenuto il risultato che ti aspettavi, però quando sei passato al primo giro il tuo fans club c'era e si è fatto sentire. Sì, sì, si sono fatti sentire tantissimo, infatti è anche grazie a loro che sono riuscito a prendere la fuga perché in tutte le salite c'era qualcuno che mi urlava e non è stato facile prendere la fuga, è stato difficilissimo. Poi in fuga non c'era tanto accordo, insomma è stato un po' difficile, però va bene così.